ora proviamo con il beard il cavo che alimenterà il feed a elica di francesco i z7 uh pallet pluto banco prova ok e questo è il beard andiamo in trasmissione arriva a 50 watt abbiamo fatto una prova prima per un po di tempo questo non ne vuole sapere proprio a scaldare mentre il cavo a differenza scalda un bel po ovviamente carichi fittizi leggermente diversi non assolutamente e perfettamente tarati 9,3 a meno 2 50 e passa watt spegniamo chiaramente beard con schedina e moltiplica per 5 quindi sul fondo scala 50 watt obs in trasmissione